Il motivo per cui il giudice ha emesso 6 condanne di cui una di 6 anni ha questa motivazione qua insomma, che rifiuti tossici e abusivi sono stati messi sotto questa tangenziale qua 6-7 anni fa. Questo è stato scoperto e ai sindaci di Orgine Nuovi e di Orgine Vecchi è stato anche concesso un indennizzo di 100 mila euro, in più è stato concesso un indennizzo anche alla stessa provincia di Brescia. Questo significa che lì sotto 187 mila tonnellate di scorie ci sono. Adesso la domanda è questa qua, dobbiamo riaprire immediatamente la tangenziale perché è stata emessa la condanna o forse è meglio vedere di che cosa si tratta veramente per queste scorie? Perché è vero che sono scorie di fonderia, del cromo esavavente, ci sono anche tanti altri materiali, più che meno nocivo tossico, però è anche vero che bisognerebbe fare attenzione a se la palda, acquifera è stata inquinata oppure no. Quindi facciamo immediatamente queste analisi qua e dopodiché ci passa alla ripertura della strada, però solo dopo aver fatto queste verifiche e queste analisi batteriologiche. Tutta la bassa bresciana è in condizioni di questo tipo qua, non c'è stata nuova strada e probabilmente neppure qualche asfaltatura è stata risparmiata per buttarci dentro di tutto. Dunque la situazione è molto pericolosa per la salute dei cittadini e questo sarebbe indispensabile, cioè una valutazione di quello che c'è sotto per assicurare un minimo di tranquillità, visto che comunque per quella zona lì è difficile assicurarla al 100% la tranquillità perché da ogni parte, come dicevo prima, c'è stato questo vezzo negli ultimi 30 anni di scaricare dappertutto dei materiali di risulta che però invece contenevano anche dei rifiuti tossici. Il pericolo è conclamato, non concreto, adesso sta a noi e alle autorità mettere in campo tutte quelle interventi per verificare qual è il livello del danno, insomma. Non chiediamo niente di più, chiediamo soltanto di tutelare sul serio la salute dei cittadini della bassa bresciana.